Il Paese sta attraversando una crisi robusta, per uscirne dobbiamo investire di più e meglio sui giovani, una risorsa davvero sprecata in questo Paese. Cosa farà Alma Laurea? Ha deciso di mettere a disposizione la sua enorme banca dati, pensate 1.800.000 circa tra laureati e diplomati, col curriculum aggiornato, mettere a disposizione gratuitamente alle imprese piccole, grandi, italiane e stranieri, istituti professionali, per fare in modo che le imprese possano in qualche modo riposizionarsi sul mercato locale, anche su quello di cui internazionale. Siamo convinti che mettere nel motore della propria azienda un laureato, un diplomato capace e formato, serva a vincere quella che è non solo la concorrenza a livello locale, ma anche quella a livello internazionale. Insieme a questo il contributo più importante che noi come Alma Laurea e come università che sono in Alma Laurea possiamo dare alla ripresa dello sviluppo nel Paese. Sappiamo bene che la situazione è complessa, sappiamo bene che la situazione è difficile dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, ma non dimentichiamo mai che anche nelle situazioni di carestia grave il contadino taglia, sì, su tutto, ma non sulla semina, i giovani rappresentano per noi, per il Paese il futuro su cui dobbiamo investire.